CGL in piazza per lavoro e salari un anno dopo l'assalto alla sede nazionale del sindacato in corso d'Italia a Roma. Proprio il leader della CGL, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione nazionale in piazza del popolo, ha dichiarato che la manifestazione avvenuta affinché venga ascoltato il lavoro e fissato l'obiettivo di riformare il paese per rimettere al centro lavoro, diritti e giustizia sociale presente la delegazione Nissena. Noi siamo andati a Roma l'8 ottobre, abbiamo manifestato un anno dall'assalto alla sede nazionale, non solamente per ricordare e non dimenticare, ma per dire delle cose importanti, perché l'assalto di un anno fa ha significato una biega violenza a tutto il mondo del lavoro. E' proprio dal mondo del lavoro che noi dobbiamo partire. La centralità al lavoro è fondamentale perché la crisi del mondo del lavoro, la crisi sociale ed economica, ha portato a quell'assalto, porta a logiche di violenza fascista che prendono spazio anche e consenso nella collettività. Quindi è importante attivare politiche del lavoro che guardino ai diritti dei lavoratori, alla lotta alla precarietà, alla centralità del lavoro in sicurezza, a un sistema fiscale equo, a un sistema pensionistico che guardi ai lavori di cura, ai lavori alle donne, ai lavori gravosi. Sono quello che noi abbiamo portato a Roma, la piattaforma che noi abbiamo definito in un decalogo, sono importanti tematiche che poi riportiamo sui nostri territori. Grazie.